Parliamo di attaccanti, dice mamma mia che novità, vero, tanto di lì non si esce, ma quello è un passaggio, vorrei dire, obbligatorio per immaginare un salto di qualità della Fiorentina. Ne parliamo tra l'altro nel momento in cui a Firenze c'è Gabriel Battistuta, allora Battistuta ci vorrebbe in campo, ma non è più possibile. Battistuta comunque è un portatore di buone storie, di emozioni positive ed è argentino e allora fammi pensare o sperare che Beltran, che tra l'altro ha indossato la maglia River Plate, una delle maglie di Batista, che colboca, trovi in questo Battistuta Fiorentino che magari potrebbe avere anche dei contatti con lui perché ci sono anche dei giornalisti al sedito che avevano voglia di salutare Beltran, trovi quella ulteriore gioia, motivazione, carica e grinta che gli permette a sabato di segnare il suo primo gol in Serie A. Ne ha bisogno tantissimo lui, ma ne ha bisogno tantissimo anche la Fiorentina.